Adesso c'è una testimonianza che vorrei, una cosa molto interessante, chiederò al relatore Marco Maio di essere sintetico, perché noi abbiamo parlato di comunicazione, abbiamo detto un sacco di cose, ma poi ho detto ma questa roba qui si può applicare in qualche modo? Bene, noi siamo stati coinvolti in un bellissimo progetto che al di là del progetto stesso era una vera palestra organizzativa, strutturata, soprattutto per la parte di comunicazione, non solo della comunicazione, ma era una parte importante, cioè non era stata trascurata, anzi era stata messa per l'evidenza. Marco Maio del Pinerolo. Grazie. Buongiorno a tutti, Carmelo intanto grazie di averci chiamato e coinvolto, per me già questo è un successo, il fatto che la commissione comunicazione e aver suscitato l'attenzione della commissione comunicazione e immagine, ritengo che questo sia già un grosso successo, per cui io potrei ringraziare e andare via, così avremmo risparmiato la questione guadagnato sul tempo, ma proverò a comunicare anche a voi in 15 minuti quello che abbiamo cercato di comunicare in oramai direi 10 mesi, ecco perché l'idea è nata sostanzialmente a inizio anno, in realtà un po' prima e adesso siamo in piena fase di esecuzione del progetto. Allora intanto di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un progetto Rotary per l'ambiente, ecco per darvi un'idea questo progetto ha tre obiettivi che sono azione, educazione e sensibilizzazione e per darvi anche un ordine di grandezza delle cifre che questo progetto ha richiesto, siamo circa 80.000 euro di cui 40.000 euro provenienti da un global grant perché abbiamo ottenuto l'approvazione del nostro global grant e circa 40 dagli sponsor, in realtà questo dato è in aggiornamento perché il nostro progetto è un progetto in continuo movimento, in corso d'opera si sono aggiunti degli altri sponsor, chiamiamoli, ecco perché anche in corso d'opera grazie alla comunicazione abbiamo raccolto l'interesse di altre associazioni, fondazioni, quindi questa cifra è destinata ad aumentare, dovrebbe arrivare a 50.000, quindi stiamo parlando di un progetto intorno ai 90.000 euro. La prima cosa che abbiamo voluto comunicare è il progetto, quindi Rotary per l'ambiente, i tre obiettivi. Quindi l'azione sostanzialmente l'abbiamo voluta, l'obiettivo dell'azione l'abbiamo voluto raggiungere attraverso una classica direi, soprattutto quando si parla di un service sul tema ambiente, un'azione abbastanza tipica in questo caso che si è suddivisa in due sotto obiettivi, il primo è quello di acquistare 200 alberi di altezza circa 1,80 m, 2 m e di donarli al comune di Pinerolo, il quale comune si è impegnato ad andarli a piantumare in aree dove serviva appunto fare un'attività di riforestazione o in aree, dopo magari lungo i viali dove alcuni alberi erano così, erano morti. Quindi si è impegnato a piantumarli e a garantire la manutenzione di questi alberi per i successivi almeno due anni, anzi, principalmente i primi due anni dopo la piantumazione. E poi un'altra attività è quella che faremo insieme alle scuole, proprio il 21 novembre, giorno, è la festa nazionale degli alberi il 21 novembre, quindi insieme alle scuole andremo sempre in un'area che il comune di Pinerolo ci ha messo a disposizione a fare una piantumazione di mille alberi, quelli piccoli ovviamente, quelli che vengono dati dalla regione e andremo a fare questa attività di piantumazione, anche ovviamente un'attività didattica per le scuole. Secondo obiettivo, l'educazione, che abbiamo voluto così raggiungere con due gare di plogging, una prima gara che ha coinvolto la popolazione di Pinerolo e una seconda dedicata alle scuole. Ovviamente il light motive di questo progetto è coinvolgere i giovani, perché le tematiche ambientali, insomma, non sto a raccontarvelo, è ovvio che i primi da coinvolgere e sensibilizzare sono proprio i giovani. Quindi la seconda gara di plogging dedicata alle scuole superiori di Pinerolo hanno aderito tutte, tutte hanno partecipato a questa gara, quindi c'è stato molto interesse. La terza è la sensibilizzazione, che abbiamo voluto raggiungere un po' l'evento clou di questo progetto, soprattutto a livello di immagine. La sensibilizzazione è una mostra fotografica di un famosissimo artista e fotografo francese, Jan-Arthus Bertrand, uno dei più famosi al mondo su tematiche ambientali. Una mostra dove abbiamo esposto 135 fotografie, pannelli da due metri per un metro e ottanta per un metro e 25, il titolo della mostra è La terra vista dal cielo, è una mostra che vuole sostanzialmente illustrare la bellezza della nostra terra, con riprese fatte dall'alto, ma allo stesso tempo anche la sua fragilità. E questa mostra è uno dei punti di forza del progetto, e quindi anche di questa mostra è che è stata fatta all'interno della Cavallerizza Caprilli. Molti immagino qui in zona sanno della storia e di quanto la Cavallerizza Caprilli sia un monumento famosissimo non solo in Italia, ma anche in Europa e nel mondo, è il secondo maneggio coperto più grande al mondo, e che ha riaperto appositamente per ospitare questa mostra. racchiuso al pubblico dal 2010. A chi abbiamo comunicato? Ecco, diciamo che la comunicazione è stata fatta in due fasi, vorrei dire. Noi prima abbiamo dovuto capire se c'era la fattibilità, se riuscivamo a raccogliere risorse per poter sostenere questo progetto. Quindi ci siamo rivolti in prima analisi ovviamente alla Rotary Foundation e ai club del distretto, che erano quelli che ci avrebbero permesso di presentare un progetto di Global Grant. E subito dopo gli sponsor, che come avete visto hanno partecipato in maniera molto importante. Successivamente, dopo aver valutato la fattibilità e aver deciso, sì partiamo, lo facciamo, ce la possiamo fare, siamo andati ovviamente a fare promozione, a pubblicizzare questo nostro progetto e abbiamo coinvolto, insomma, qui diamo abbastanza sul classico, sul nostro territorio, le istituzioni locali, comuni, diocesi, scuole, ribadisco scuole, più tante altre associazioni, ovviamente stampa e media, fondamentale, così come la comunità in generale del Pinerolese, una comunità molto ampia, 140.000 persone, 40 comuni. Come abbiamo comunicato? Anche in questo caso la comunicazione è venuta di pari passo, man mano, in base a chi andavamo a comunicare qualcosa, lo facevamo in un modo diverso. Quindi inizialmente, quando ancora non eravamo convinti e sicuri della fattibilità, ma stavamo seminando per raccogliere le risorse, siamo andati banalmente con delle presentazioni. Abbiamo stilato un progetto, ovviamente, e qui abbiamo una cintura nera di progetti di Global Grant, che è Sergio Gasca, mio badante rotariano, che è qui con noi. Abbiamo presentato la bozza del progetto, abbiamo fatto dei facsimili di locandine, dei facsimili di brochure, per andare appunto a far capire di cosa stavamo parlando, capire la bontà del progetto e abbiamo anche fatto presentazioni che erano diverse a seconda del destinatario, perché ovviamente alla Rotary Foundation e ai club del nostro distretto siamo andati a raccontare del progetto di Global Grant e della bontà del progetto di Global Grant e perché era meritevole per quello. Agli sponsor abbiamo dovuto raccontare sì della bontà del progetto, ma anche dare informazioni in più, perché gli sponsor chiaramente quando danno dei soldi lo fanno anche per avere un ritorno di immagine, oltre a credere nel progetto chiaramente. Poi email, incontri, ecco abbiamo incontrato tutti quelli, tutti, sostanzialmente abbiamo, c'è stato un periodo in cui quasi tutti i giorni andavamo incontrare qualche potenziale sponsor o mandavamo mail o facciamo incontri e successivamente una volta avviato il progetto ovviamente abbiamo iniziato a comunicare con i comunicati stampa e molto abbiamo anche investito e speso soldi sul digital marketing aprendo un sito web dedicato, un account facebook dedicato, un account instagram dedicato. più brochure, flyer, locandine, ecco qui anche una copia del catalogo. Abbiamo fatto tra banner, striscioni, locandine, potrei scrivere un libro su quanta roba abbiamo fatto. Poi per finire direi è stata una comunicazione di successo, boh, adesso appunto ripeto, già solo il fatto di essere qui un po' me lo fa pensare, ma ho raccolto un po' di dati ecco, se possiamo considerarla una comunicazione di successo. Allora, innumerevoli articoli di stampa e online, ho scritto innumerevoli proprio perché ho iniziato, ci ho provato a andarli a contare, a raccogliere, ma veramente ce ne sono, basta mettere sul motore, su google search, rotary blogging, rotary la terra vista dal cielo, Jan Artus Bertrand Pinerolo o qualunque parola che possa richiamare il nostro progetto e troverete decine di siti e di articoli a riguardo. L'Eco del Chisone che è il locale, è il giornale che anche probabilmente molti di voi conoscono, ha per 12 edizioni consecutive, un settimanale, ha parlato del nostro progetto. Si pensava che ce l'avesse con noi l'Eco del Chisone perché non ci considerava molto. Abbiamo capito che forse bisogna portare dei progetti che abbiano un impatto importante, che siano progetti e comunicarli anche perché anche in passato abbiamo fatto tanti progetti seri che non hanno avuto grande riscontro sulla stampa, adesso questo è un po' la ciliegina sulla torta che ci ha dato anche la giusta credibilità agli occhi della nostra stampa. Visitatori della mostra, avevamo posto un obiettivo che nel progetto di Global Grant è indicato, 2.500 visitatori, attuali oltre 9.000, l'ho preparata una settimana fa questa presentazione, notizia di ieri abbiamo superato i 10.000. Studenti in visita alla mostra, previsti 1.000, a ieri siamo a 2.500. L'incasso da vendita dei cataloghi che era una delle fonti, una risorsa che per noi era molto importante, a poco più di due mesi abbiamo già superato le aspettative e manca quasi un mese alla chiusura della mostra. Per darvi anche un contesto temporale, l'idea è partita, il progetto è partito all'inizio anno, il progetto è ufficialmente nato il 26 agosto, è partito il 26 agosto con l'inaugurazione della mostra di Jan Arthus Bertrand e finirà ufficialmente il 16 dicembre. Quindi siamo a circa un mese dalla chiusura e abbiamo già superato l'obiettivo. Ecco questo per me è un altro aspetto fondamentale, l'ho già ripetuto, la partecipazione al nostro Global Grant è di 16 club del nostro distretto, di cui due Rotaract e un Interact. Quindi anche lì c'è stato un grosso interesse, ovviamente c'è tale Liliana Remoli, che fa assistenza del governatore, che ci ha dato una grossa mano nella comunicazione, cintura nera di comunicazione lei, quindi lo considero un successo. Abbiamo esteso l'apertura della mostra per le scuole, perché c'è stato il sold out, come si dice che fa figo, e quindi invece che chiudere la mostra il 30 novembre la estendiamo al 16 dicembre, proprio per permettere, abbiamo già esaurito anche i posti fino al 16 dicembre. Un altro successo che vorrei segnalare, che non ho scritto, è la partecipazione di volontari. Noi alla mostra dobbiamo avere sempre due sorveglianti che sono presenti per questioni di sicurezza. Abbiamo, mi pare, 35 volontari che hanno aderito a questo nostro progetto, di cui 22 soci, 22 soci del club che stanno partecipando attivamente, che ogni giorno, ogni giorno, a turno chiaramente, comunque impegnano e dedicano mezza giornata in settimana, perché è aperta tutti i giorni la mostra, quindi impegnano mezza giornata e la dedicano a venire a fare servizio di sorveglianza. Ecco, ma la cosa fondamentale, ripeto, il successo più grande, che non è misurabile, almeno nell'immediato, ma che ritengo è un qualcosa di percepito, è la visibilità che Rotary sta avendo grazie a questo progetto. una roba, cioè credetemi, parole di un assessore all'ambiente di Pinerolo, dice avete spaccato, questo è uno slang molto giovanile, ma perché è giovane, avete spaccato, Rotary quest'anno ha fatto una visibilità con dei progetti impressionanti. e insomma ci sentiamo anche un po' fighi, veramente, anche negli occhi dei competitor, chi è che parlava dei competitor, cioè ti rendi conto che ti guardano e l'ammirazione rispetto verso quello che stiamo facendo, e ripeto, questa è la ciliegina sulla torta, perché già da anni che l'impegno del nostro club, del Rotary in generale, anche per tanti service di carattere sociale, è cresciuto, e quindi questo è un po' coronamento di tanti sforzi, un progetto che sta avendo un impatto importante, e quindi questo ci sta dando tanta soddisfazione a livello locale. E qua ho voluto riportare le varie locandine, ovviamente sempre marchio del Rotary bene in vista, sempre ogni volta che andiamo a fare servizio con le pettorine Rotary, Carmelo le ha viste, proprio per farci notare, per farci identificare. Noi siamo Rotary, facciamo questo. Grazie. C'è una cosa che non ha detto Marco, che hanno venduto il loro progetto. Ecco, devo dirglielo io. Hanno venduto il loro progetto, tra virgolette, ci sarà la continuazione di questo progetto in un club di Genova, se non sbaglio, Genova, con lo stesso format, quindi vuol dire che hanno prodotto un successo. Io mi ero già innamorato di questo progetto, ma ancora prima di vedere questi risultati, solo ricevendo la presentazione. Ricevere una presentazione organizzata con gli obiettivi, la fase operativa, gli step, un gante dove si mostrano le varie fasi, è fondamentale, soprattutto quando vai a chiedere soldi agli sponsor. Perché quando chiedi gli soldi agli sponsor, non è che puoi dire, ma sai, io ho questa roba qui, bella, figa, no, quelli vogliono vedere come lo sviluppi, vogliono vedere una presentazione ben fatta, accattivante. Queste cose qua, noi spesso le trascuriamo. Invece è l'inizio del successo di ogni progetto, soprattutto così articolato, è così importante, da un punto di vista economico, ma proprio anche da un punto di vista operativo.